è prestissimo sono le sette se non sbuca mio figlio all'improvviso mi è andato un capello in un occhio però ho promesso che oggi ne facevo due perché ieri non l'ho fatta a tempo dunque voglio riallacciarmi al video di ieri vi spiego intanto le digoste le dice d'acqua a prescindere salutano vedevo passare una cosa ogni tanto io vedo cose mi distrago torniamo torniamo sulla terra ho messo due magliette lupetto e mi si impicciato il collo or dunque prima o poi le farò ste sopracciglia vabbè la devo piantare i tergiversari dicevo che quest'argomento questa tematica non era effettivamente in programma ma mi è balzata alla testa e come al solito io ascolto seppur sia sorda i consigli dell'universo grazie a un commento di un'amica sul video di vantieri il video di vantieri sto guardando lì perché ce l'ho davanti il video di vantieri era mappe stradali del destino e in questo video spiegavo come fare per capire per comprendere da parte dell'universo da parte del nostro stesso destino cosa che strada dobbiamo prendere quando dobbiamo incanalarci nello studiare nel fare ricerche su determinate tematiche che sono destinate a essere capite da noi e infatti avevo scritto come present imparare a seguire il destino e ad ascoltare gli indizi che l'universo ci manda imparare a capire a comprendere il visibile e l'invisibile tecnica che insegna a far scorrere la consapevolezza e a individuare la strada da percorrere in queste vite terrene quindi seguendo questa tecnica ci si lascia trasportare come dicevo dal destino dall'universo e da dalle nostre guide in particolare dal suggeritore quindi dal nostro istinto a proseguire il nostro cammino ma appunto questa amica francesca aveva fatto un commento spettacolare e ve lo leggo per il semplice fatto che ha un senso devo ritrovarlo eccolo qua allora francesca mi scriveva sotto nei vari commenti degli utenti interessantissima tecnica proverò io da sempre faccio una specie di veggenza utilizzando le canzoni per radio mi concentro e chiedo all'universo su una tematica e che la prossima canzone che passa per radio mi dia una risposta può sembrare sciocco ma funziona sempre non ho idea di chi mi risponda ma mi rispondono sempre correttamente e io infatti ho risposto sotto e da mi è venuto l'input di farlo questo video non è sciocco io uso la tua stessa tecnica quando voglio risposte ad alcuni defunti precisi dato che non li contatto utilizzo proprio il metodo della radio e francesca mi risponde ma pensa a te sai quante cose che mi capita di sentire da te che faccio da una vita spontaneamente senza neanche domandarmi perché lo faccio sì sono strana sempre stata invece di strano non assolutamente nulla anzi è una di quelle persone che segue maggiormente proprio gli influssi del suo istinto del suo suggeritore ha capito ha capito come funziona e infatti gli ho risposto è proprio questo il fulcro moltissime cose che facciamo che vediamo che viviamo sono comuni a tutti e spesso sono legate alle nostre anime ma purtroppo non se ne parla mai e non ci facciamo nemmeno caso e da qui dalla frase con la quale ho risposto alla fine a francesca la mia secretaria tanto lo so che lo guarda poi sto video quindi la mia secretaria ho deciso di parlare proprio di questo è un po il classico se ci sei batti un colpo nel senso non nel senso che ci mettiamo a fare salute spiritiche a catena ma nel senso che è una tecnica anche quella e non riguarda solo la radio chiedere l'aiuto da casa fare domande a una lezione è una cosa normale e siccome queste vite terrene sono dei giorni di scuola lo dico sempre un'intera vita terrena per l'oltre per l'aldilà per l'universo chiamatelo come volete è una giornata di scuola ma quando voi andavate a scuola o alcuni tra i più giovani beati voi ci vanno ancora di quelli che mi seguono quando voi andavate o andate a scuola a un certo punto della spiegazione di un professore di un maestro e via dicendo vi è venuta automaticamente qualche domanda da porre se stavate ascoltando la lezione poi se vi stavate facendo gli affaracci vostri con il compasso a pulirvi le unghie come facevo io quando le medie quella è un altro paio di maniche ma se la lezione la state ascoltando qualche domanda vi viene per senso allora cosa succede 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 che se siete a scuola a far la domanda alzate la mano e chiedete all'insegnante se state guardando uno dei miei video o di altre persone che fanno video esplicativi o che fanno post sui gruppi sui forum sui social in generale scrivete un commento e fate la domanda ma se state facendo la lezione di vita e l'insegnante è l'universo e i maestri di sostegno sono le vostre guide e voi non siete medianici quindi non le vedete in faccia noi potete fa quattro chiacchiere col demone cinque chiacchiere col totem e lanciare l'osso allo spingitore per cui diventa complesso ma se l'universo e l'insegnante e il supporto quindi i bidelli i maestri di sostegno i supplenti e quant'altro sono le vostre guide un modo per poter fare la domanda che avete in testa ci deve pure essere anche vasco in una sua canzone cantatemi dia che cantava portatemi dio lo voglio vedere portatemi dio gli devo parlare gli devo raccontare di una vita che ho vissuto e che non ho capito a cosa è servito che cosa è cambiato adesso cosa ho guadagnato e vasco voleva parlare con dio ma siccome io sono atea e comunque non mi pare che a parte marcellino abbia mai risposto ad altri a no ha risposto a marcellino e ha risposto a balasso ma per il resto non mi pare che sia un insegnante che risponda tanto alle domande quindi come possiamo fare per fare le domande a chi ci sta indirizzando sulle le lezioni da seguire in questa vita uno il metodo il metodo non uno il metodo per eccellenza è proprio quello tra virgolette citato da francesca ovvero lei con l'ausilio di una radio ma può essere qualsiasi cosa la radio che peraltro io ho usato tantissimo in passato ora non ho radio e poi a quanto mi pare nelle stazioni radio e non gira più molto certo che ci vuole anche un po di acume poi per capirla la risposta però appunto una radio tipo ho questa domanda me la pongo e poi mi concentra su adesso sto ascoltando la radio la prossima canzone che arriva è la risposta alla mia domanda oppure un libro di oracoli ce ne sono mille mila io c'ho quello di silvia lo sapete perché faccio mercoledì interattivo con quello di silvia degli oracoli delle streghe lucenti ce ne sono mille mila tipologie quindi io ora non le conosco perché a me mi riempe già piena e mi basta il libro di silvia però appunto faccio la mia domanda dopodiché apro il mio libro degli oracoli e leggo la risposta o ancora a volte invece che utilizzare il libro degli oracoli di silvia utilizzo le carte del destino di adam che hanno delle risposte secche quindi arriverà non c'è arriverà presente malato sì no vincita inizio azienda lavoro e mille mila altre risposte o se le sapete utilizzare se le sapete più che altro capire anche appunto i tarocchi fatti con la domanda all'universo ma non serve a volte tutta questa attrezzatura io preferisco usare le carte del destino o il libro di silvia perché sono più mirati per questo tipo di scopi la radio l'ho sempre utilizzata i tarocchi ce li ho qua e se voglio farmi la domanda c'è non 10 mila non c'ho solo questi no 80 ordici c'ho quegli ultimi che mi hanno regalato c'ho quelli della santa muerte c'ho quelli di land dog posso fare la mia domandina e dico ma non ho capito in questo caso qua che devo fa 1 2 3 ciapa e mi viene fuori la risposta in questo caso non ho fatto nessuna domanda mi era venuta fuori la crudeltà il successo e il ritiro tanto per però devi saperli interpretare puoi fare anche altre cose puoi prendere anche un libro un fumetto a caso adesso con dylan dog questo è l'ultimo uscito giusto che ne parlavo stasera con adam di dylan dog e degli altri fumetti questo è quello uscito questo questo mese qua gli infernauti si chiama non l'ho ancora neanche letto non ho avuto il tempo ho la mia domanda e dico ora apro una pagina dove mi dai una risposta poi prendo e apro e leggo la ringrazio davvero soprattutto per la fiducia lei è l'unico oltre a me che capisce joe su finiamola con i salamelecchi dobbiamo salvare il mondo eccetera eccetera ora io non ho fatto domande ma ripeto è una condizione ho preso il dylan dog ma potevo prendere il libro peraltro bellissimo che ha scritto un'amica e che ho trovato stupendo il portone rosso di alessandra piccinini che ho letto da poco tra l'altro due volte perché mi è piaciuto talmente tanto che volevo leggerla immedesimandomi in due diversi personaggi apro qua e leggo cominciai a pensare a lui con molta emozione non vedevo l'ora di ricevere i suoi messaggi li aspettavo anch'io gli scrivevo sempre più spesso e via dicendo qualsiasi cosa ancora un canale tv adesso vorrei tanto sapere in questa situazione come devo proseguire ora metto su un canale del televisore a caso e quella è la mia risposta dopodiché accendo il televisore metto su che ne so canale 5 rai 3 radio teletubbies non lo so io la televisione non ce l'ho da anni quindi sto improvvisando mi ricordavo la media sette la rai non so nemmeno se esistano ancora e e guardo cosa mi dice su quel canale beh sembra una bambinata oppure una cosa quasi di fantasia eppure credetemi che le risposte per chi le sa cogliere mi mangio un monceri arrivano proprio in quel modo quindi diciamo che ora mi è imbriaco sono grossi se la lezione la potete seguire attraverso le mappe stradali del destino che vi ho spiegato ieri le varie domande da porre al prof le potete fare tranquillamente con questa tecnica anche con la tecnologia io ho una domanda per esempio apro tik tok lo lascio aperto sul primo video che mi è capitato e poi chiedo all'universo che ne so che domanda potrei fare tanto per rimanere sul tema del discorso che stiamo facendo dopo questo video faccio quello che avevo pensato sulle testimonianze di una vita il quinto video che viene qua fuori è la mia risposta ora li conto uno non li guardo neanche due tre quattro cinque quando un tuo amico non conosce la tua sposa e c'è tutta una scenetta vabbè io guardo solo roba asiatica anche su tik tok quindi sappiate che però però c'è un però qui il titolo è quando il tuo amico non conosce la tua sposa tua moglie e testimonianze di una vita lo volevo fare proprio poi lo vedrete sulla storia di una coppia di fili d'argento e quindi c'entra proprio lo sposarsi e il non sposarsi c'entra proprio la tematica quindi direi che nella mia risposta poi lo vedrete nel video prossimo che arriva la mia risposta è stata data devo raccontare quella storia in testimonianze di una vita e quindi dopo il prossimo video sarà quello lì comunque cmq prima che la madre mi faccia andare sui ceci in ginocchio e che Adam mi mandi cannella in astrale per punirmi questo è il primo dei due che ho promesso stasera ora lo carico e poi appunto farò il secondo che sarà una testimonianza di una vita tra due fili d'argento ve lo anticipo già tanto lo faccio a breve ah 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 ci vediamo stasera ah no aspetta nel caso qualcuno vedesse solo questo e non l'altro quindi qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro degli invece mille mila link che tengono in vendita i miei video i miei libri no video sto rimbambuta come diceva mia nonna sto rimbambuta i miei libri che ad oggi sono sette ma sto per finire se tutto va bene testimonianza di una vita volume 2 perché me lo state chiedendo in ogni lingua e per finire le di costa e le di sataco risalutano ma a breve risaluteranno prima o poi mi pigliano a calci qua sulla cocozza sulla ciribi di coccola come dicevano a negli anni del carretto allo zecchino d'oro ma se mi gira la ciribi di coccola basta la faccio finita e ritorno col prossimo poi devo fare le copertine e caricarli tutti addosso sperando bene oggi è sabato oggi è sabato domani non si va a scuola oggi è sabato se non chiami un nodo in gola grande Daniele come sempre ciao